Clamorosa svolta nella vita politica, il centrodestra leccese va verso le primarie tra Adriana Polibortone e Paolo Perrone. Se si terranno effettivamente sarebbe un fatto senza precedenti non solo a Lecce e nel Salento ma anche a livello nazionale, visto che mai finora il centrodestra ha fatto ricorso alle urne interne per scegliere un candidato. Ieri Paolo Perrone aveva sfidato Adriana Polibortone a misurarsi con lo strumento delle primarie. Oggi la senatrice accetta il guanto di sfida del sindaco. La novità clamorosa arriva in una sede inconsueta in pieno consiglio comunale e forse non è un caso che avvenga durante la discussione sull'affer di via Brenta per bocca della consigliera Francesca Mariano. Io sono autorizzata, mi do notizia, sono autorizzata a dirvi che io sono del pronto per scendere il campo per primarie. Ma delle condizioni, preciserà pochi minuti più tardi direttamente la senatrice. Coalizione insieme adesso. Questo vuol dire far passare il gruppo consigliare Io Sud dall'opposizione alla maggioranza. Quindi adesso sta al sindaco fare i passi giusti per ricomporre la coalizione in ogni senso. Quindi per ridare dignità di governo ad un partito che ha tre consiglieri comunali e quindi successivamente noi siamo pronti per affrontare le primarie. Lei è pronta a sfidare Paolo Perrone? Ma non si tratta di sfidare. Le primarie si fanno per vedere il consenso dei cittadini, non per sfidare l'altro. Le primarie si fanno nell'interesse di una coalizione, per vedere all'interno delle offerte politiche che fa la coalizione qual è il candidato che può avere maggiore appello sull'elettorato. Quindi non è che ci si sfidi all'interno. Il sindaco dal canto suo ha ribadito chi perde sostiene l'altro. Significa che Perrone è pronto a giocarsi il posto nelle urne interne ma a condizione che in caso di sconfitta la senatrice si accodia la sua candidatura. Sono sempre stato pronto, l'ho sempre detto. È giusto che per scegliere il candidato migliore si debba passare dal baglio del nostro elettorato e quindi ci saranno queste primarie, da quello che ha detto la consigliera Mariano. Bisognerà stabilire i criteri, questi sono i partiti ovviamente a decidere. È chiaro che bisogna ovviamente intenderci chi vince le primarie avrà l'appoggio dell'altro. La partita leccesa assomiglia sempre più a un tavolo di poker. Se questo clamoroso colpo di scena sulle primarie sia un blef tra giocatori consumati o invece la reale volontà di ricompattare il centrodestra per vincere alle prossime amministrative sarà il tempo a dirlo.